Castel è un borgo fino a qualche anno fa pressoché sconosciuto che ora sta tornando a vivere anche grazie a tante mostre, in corso una mostra Paesaggi inattesi, di che cosa si tratta? Sì, è una mostra che sarà attiva fino alla 3 di luglio e che ospita una ventina di artisti provenienti da tutto il mondo. Questi artisti sono stati invitati a interpretare un tema comune che è il tema dei paesaggi appunto. Il paesaggio però viene inteso anche come contenitore, contenitore che quindi può assumere diversi significati e avere contenuti diversi. Primo fra tutti appunto l'opera d'arte, quindi diciamo il paesaggio cambia secondo dell'artista che lo interpreta ma anche dello spettatore, secondo degli occhi dello spettatore. Questo è proprio il significato penso principale che ha voluto dare a questa mostra il curatore che è Alessio Guano, che è un artista che espone all'interno di questa mostra e che ne ha curato anche i contenuti. Ed è particolarmente interessante per noi di Castel questa mostra perché diciamo appunto questo discorso del paesaggio è una linea guida del lavoro che stanno facendo i cittadini di Castel insieme alle imprese del luogo proprio per far rinascere questo borgo che come dicevi tu era abbandonato ma anche per farlo diventare una galleria d'arte diffusa. Ecco Castel è soltanto però uno dei borghi che si trovano dietro alle Cinque Terre dove c'è tutto un universo da scoprire. Esattamente, questa iniziativa che è lodevole è una delle tante che si potrebbero svolgere negli innumerevoli borghi che ci sono alle spalle delle Cinque Terre che sono nel Comune di Ricodo e Golfo perché noi non abbiamo un mare blu e non vogliamo competere assolutamente con le Cinque Terre abbiamo un grande mare verde all'interno del quale ci sono molti borghi che andrebbero recuperati possono essere recuperati e hanno bisogno di essere recuperati e in questo contesto l'amministrazione del Comune di Ricodo e Golfo si sta impegnando a cercare di recuperare anche finanziamenti che possono andare e che possono aiutare questo tipo di iniziative. C'è da dirne una che assolutamente è importante nel prossimo mese di luglio probabilmente vedrà alla luce il primo atto costitutivo che vedrà il Comune di Ricodo e Golfo all'interno dell'UNESCO come area di cornice al Parco delle Cinque Terre Porto Veneri. Non è la prima volta che espone a Castel? Perché questa scelta? Perché le piace così tanto questo burgo? Ma prima di tutto perché c'è un mio amico Marco Natale che sta rivitalizzando la zona e mi vita sempre io mi distacco un attimino dagli altri perché sono in una location particolare una casa ristrutturata in cima al paese tutta di sasso con un'atmosfera che diciamo fa piacere perché la soddisfazione massima è ritrovarsi con degli amici, fare dialogare questa atmosfera di cordialità e soprattutto questa pace che c'è a Castel che ti rigenera cioè è antistress veramente se qualcuno vuol provare può venire a Castel.